Asna è a oltre 600 chilometri. Un bel viaggio per una festa. Dì la verità, ci siamo persi. Dobbiamo svoltare. Non è qui. Sì, che qui. No, David! Fitta, non essere stupida! È stato un incidente. Ce lo siamo ritrovato davanti. Non vogliamo certo la polizia. Si metterebbero a ficcare il naso ovunque. Eri in auto con un ubriaco e questa cosa ti rende complice? Come se non fossi complice già da tanto tempo. Adesso? Sarai avvilita per tutto il weekend o deciderai di divertirti? Non è un crimine divertirsi, lo sai? Immagino di potermi sforzare. E ha parlato di soldi? No. Vuole che lei vada con loro a seppellire il ragazzo. È consuetudine da questa parte. Le persone scompariano qui. Nel nulla svaniscono. No. 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 Non l'hanno investito e basta. Gli sono passati sopra. Più di una volta, forse. C'è un termine preciso nel tuo paese? Carugna. Non puoi scappare da nessuna parte. Non ti puoi nascondere. Non ti è venuto in mente che magari sta pianificando qualcosa di più sgradevole di quello che stai pensando tu? Ti sei dimenticato di mio marito? Sì, è vero. Lo stesso tu. Perché ha consentito avvenire? Perché non abbiamo più che. 어�rugio può sia mai. Non boil la Steel aos nellocmer? Non lo tanto, lei è creda! Non lo tanto, lei le viene di un ler potato. Non una e le exponential sopra degli u legendari. Tel turno si è venuta. Qui cittano?